Insieme a Nick, che adesso non c'è però, ne parleremo solo nella prossima settimana, stiamo per vivere un'esperienza su me stupenda, ovvero un corso da Data Specialist che faremo insieme online, ovviamente, grazie a SIX. Quindi è veramente un'esperienza bellissima di cui vi volevo parlare e soprattutto, visto che siete in tantissimi, che ce lo avete chiesto in chat, qua su Twitch, pure su Discord, come approfondire questo mondo dei dati applicati al calcio, vi volevo rimandare proprio al sito di SIX, perché noi faremo quel corso e ovviamente se volete partecipare anche con noi e se siete interessati a questo tipo di cosa, www.six.it scrivetelo, perché almeno, magari ovviamente a fine live dopo i consigli, perché almeno potremo fare questo percorso insieme. Si tratta di scouting, ovviamente di giocatori, queste sono le aree in cui vengono utilizzati i dati nel mondo del calcio, lo studio delle partite, sia della propria squadra che degli avversari, e nel nostro caso del fantacalcio, la valutazione dei giocatori, cosa che anche qua noi facciamo per il fantacalcio, ma sono cose che fanno nelle squadre, ovviamente, quindi si tratta di conoscenze che sono molto utili sotto tutti i punti di vista, senza considerare che Data Analyst, che è quello che vogliamo fare noi in questo momento, sono le figure più ricercate nei club di Serie A, perché ce ne sono meno, magari rispetto ai Match Analyst. Quindi, vivremo questo corso con SIX, vi ricordo www.six.it, e il corso avrà un esame finale, attraverso il quale saranno individuati i migliori tre talenti, che avranno la possibilità di svolgere uno stage in una squadra di Serie A, presso SIX e anche presso Soccermet, quindi c'è una di queste tre strade, secondo me, veramente stupende, e è qualcosa che vi volevamo comunicare, perché noi lo faremo, e visto che ce l'avete chiesto in tantissimi, magari, se qualcuno vuole avere qualche informazione in più, può scriverci anche a noi, ovviamente, però comunque era per avvisarvi di quello che è il percorso che faremo noi, se qualcuno lo vuole fare con noi, ovviamente, ci può scrivere per saperne di più.